È stata una bella partita, veramente bella, giocata a viso aperto da entrambe le parti, evidentemente doveva andare così. Sono mancati i risultati, sono mancati i risultati, è mancato 10-12 gol in più ed è mancato anche il saper amministrare a tratti qualche partita. Se andiamo ad analizzare tutti i giocatori che abbiamo non hanno ripetuto i campionati passati, hanno fatto sì 3-4 gol, però chi era abituato a fare 7-8 gol è normale che non avendo questi gol ha fatto 37 più 3, sono 40, è quasi la stessa cosa del Lanciano che nei play out. La squadra ha lottato fino alla fine, si è vista anche in campo, poi anche di là. Tutti gli 11? Ma io credo di sì, poi ditemi voi se c'è qualcuno che si tirà lì indietro. Ma adesso mi prendo una bella pausa, una bella vacanza, poi c'è vacanza tra virgolette perché io lavoro. E poi si verrà, non lo so sinceramente, sono state scritte tante cose, dette tante cose, ma sinceramente non ho mezzo a sguardo.